Quando abbiamo sospeso l'attività didattica in presenza l'abbiamo fatto per motivi precisi. Io vi ho letto, credo, qualche volta i dati che ne avevamo avuto nelle due settimane precedenti e le due settimane successive dall'avvio dell'anno scolastico e ne eravamo passati da 276 positivi nelle due settimane precedenti all'avvio dell'anno scolastico a 1915. Quindi in realtà c'era stato un balzo di nove volte rispetto ai contagi delle due settimane precedenti l'apertura della scuola. Questo naturalmente ci aveva indotto a fermarci un attimo, quindi a sospendere l'attività didattica in presenza. Poi abbiamo visto che in realtà anche il Ministero ha fatto esattamente la stessa scelta, quindi ha criticato all'inizio, però poi di fatto in tutte le regioni oggi si è indad con le secondarie di secondo grado, quindi per intenderci le scuole superiori. Quindi abbiamo dato delle priorità e abbiamo chiesto stavolta alla cabina di regia all'unità di crisi della regione Campania. In realtà c'è stato in particolare il dottor Perrella che devo dire è stato molto paziente con me e con le organizzazioni sindacali, quindi ci ha dato quello che era il punto di vista di un epidemiologo. Ci ha detto naturalmente che la situazione non era semplice, ci ha dato alcuni dati che credo che siano stati forniti anche a voi, noi siamo passati dai 9.544 positivi nella fascia 0-19 anni del 25 agosto a 102.419 del 7 novembre, quindi c'è stato un aumento percentuale del 1.073%, quindi lui ci ha detto guardate che in realtà la situazione assolutamente non è tranquilla, ma se si opera in maniera graduale, soprattutto paradossalmente in zona rossa, e ora vi spiego il perché, è possibile provare con delle parziali aperture. Perché? Perché in realtà è evidente la scelta di sospendere l'attività didattica in presenza è stata fatta pure perché c'erano una serie di altre attività che noi non potevamo sospendere, perché per sospendere un'attività devi avere evidentemente la forza economica di dare dei ristori.